Ciao a tutti ragazzi della Lee e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con la blind run di Regi An Ancient Epic Da un po' che non lo registro, lo sapete comunque sul canale sono preso e tutto Adesso sto portando anche a plug Tale Innocence e dei video così veloci per riempimento di Hot Wheels Unishid Prima di iniziare vi ricordo come al solito di condividere il canale sui social e con i vostri amici se vi piace Nell'ultimo video avevo sconfitto il secondo boss del gioco Ed eravamo stati portati qui in questa nuova location dall'appunto Fenice E continuiamo la nostra partita E poi Sì che effettivamente però non ha i colori di una Fenice Anche se nel gioco la descrivono come Fenice Tra l'altro adesso devo riprendersi la mano perché giocano tanti giochi Devo un attimo Allora come si chiamava l'arma col direzionale Posso cambiare l'arma Scudo Parata Ok Allora Ah devo andare lì Uno meteoro infuocata piomba sulla battaglia distruggendo vari nemici Come si faceva cambiare Ho già capirla quando cambio l'arma Questa è l'elettricità Questi qua ragazzi li avevamo potenziati tutti Tranne l'ultimo Vedete che manca un figliorellino qui Sette elettriche Adesso ci devo un attimo riprendere la mano un po' che non ci gioco Vi ricordo che la visuale è sempre meglio tenerla allontanata con la levetta alla logica destra Questa è un attimo Questa è un attimo Questa è un attimo Bella sta location devo dire Adesso ho avvicinato un attimo la La visuale Ecco Oh cazzo Ma Qua ci sono nuovi nemici Ma che cazzo E non riesco a leggere Che movimenti strani che hanno questi personaggi ragazzi Recupera la vita Recupera pure la vita Che strano Che nemici strani Hanno un moveset che non so se avete notato Sembra quasi che il gioco laggi quando lo fanno Cioè che lagga mentre fa il moveset Quelli mi sa che saranno tostarelli Almeno così mi è sembrato In gruppo potrebbero crearmi Un bel po' di problemi Vabbè andiamo avanti E qua Devo andare su Devo buttarmi a sinistra Presumo Sì Ma Ma qua l'ambientazione è molto bella Ripeto comunque Il gameplay potevano rifinirlo meglio Perdonatemi Perdonatemi Potevano rifinirlo meglio Veramente legnoso E a volte può risultare stressante Proprio per quel discorso lì Della legnosità Che ci va a influire secondo me Negativamente poi appunto sul gioco Presumo che io debba andare qua Sì Dovevo aspettare di girarmi Ok ho sbagliato io forse Molto spesso si perde per colpa del gameplay E non Per dei nostri sbagli Proprio per la legnosità Del gameplay appunto Ho sbagliato lì Gli ho sbagliato io Ma perché? No dai No però no Non gli ho detto di andare Gli ho detto di andare verso l'altro ramoscello Ma che cazzo è? Anche sti pezzi Porca puttana Ma che cazzo fanno? Dai Forse devo scendere di più? Non so Cioè Anche qua il posizionamento Non è che così Ah ok Ho capito Tendi la mano E poi facciamo la X Sì Però Non mi ricordo come si scende veloce No Non vorrei rischiare di morire come un pirla Quindi preferisco scendere così Ok Col pallino Col cerchio si scende velocemente Questa misura Di arena di combattimento E infatti Eh Qua è un problema Non No Comunque il gameplay Ripeto È troppo legnoso È troppo legnoso Veramente Troppo Troppo Si perde per colpa nel gameplay Non tanto perché io non ci so giocare E sta cosa Non la tollero Non la tollero Assolutamente Sapete che io sono molto critico Su queste cose Cioè il gameplay Andava affatto meglio Andava affatto meglio Punto No Cioè No è troppo legnoso Ci mette due ore No Vabbè Infatti mi sta rovinando l'esperienza Non di poco Mi sta rovinando l'esperienza Non sta veramente tanto il discorso con il gameplay No È un peccato perché host ci siamo Ambientazioni ci siamo Ma no Il gameplay no E veramente non è fatto bene Non è fatto bene Non è fatto per niente bene Poi Vabbè Qua posso sfruttare la parata Ok però Ma che Cioè Fighi anche questi nemici qua Ma Guardate anche il moveset Non è credibile Cioè È molto strano come moveset Sembra quasi che laghi Non l'ho detto Anche l'arco Cioè Qualora decidesse di usare l'arco Ah Sta ricoprando la vita Con l'arco si fa fatica È meglio È meglio la spada Cioè Ripeto Non voglio Criticare È un peccato Perché se fosse stato appunto Più fluido Sarebbe stato molto più godibile No È proprio un peccato Qua dove devo andare Ok Devo saltare di lì Qua E poi sotto Presumo Sì Proviamo la mossa Non mi ricordo se l'ho provata Questa Questa Se la parata è la cosa migliore Con questi nemici Sembrerebbe Si può anche schivare Ma vedete che hanno Eh no Non devo fargli ricaricare la vita Si può anche schivare Ma è un po' più difficile Perché non vero più la sua vita Bella 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 l'esecuzione Colpo di scudo E sparata in gola Mi sembra di aver visto È qui Ok Questi? Nuovo punto per le nostre abilità Vediamo dove spenderlo Io quasi quasi Lo spenderei Di qua Almeno qua Siamo a posto Tra l'altro non mi ricordo Ok Qua col quadrato si faceva Con il triangolo Non fa niente Quando sono in mira Con L2 Cioè per dire Anche questo colpo Che fa malissimo Però porca puttana Si scopre troppo E non sembra Ma perde un botto di tempo Infatti era Fare dalla distanza Questo colpo qua Dove devo andare? Non sto capendo Lì? Sotto penso si muoia Infatti devo andare su Devo andare di là Ok Adesso ho capito Qua i salti Sotto Sì non giù magari Eh vedete però Questa è una cosa Che non mi piace Cioè sta cosa Mi fa cagare Lo devo dire Il fatto che Se io premo Sinistra X Non salta Cioè bisogna Per forza Aspettare Che fa così Guardate Che con la mano Mira di là Questa cosa Non mi piace Cioè Non mi piace Cioè se io faccio così Faccio sinistra X Prima che tende la mano Non mi salta di lì Non so se vi sono spiegato Sta cosa non mi piace Per niente Ma proprio per niente Cioè è una pirlata Lo so Però mi dà fastidio Perché non mi Perché non mi fa con la mano Perché non Perché non lo fa Eh vabbè Adesso l'ha fatto Oh che cazzo Oh cazzo no Ma quello crea i nemici No perdonatemi un attimo però Che si animano dopo Quanti nemici ha creato Non mi ra Beh qua è un problema però Volevo È che non posso fare neanche Le esecuzioni su quelli che volano No devo cambiare arma Se mi cambia l'arma Magari Dai Almeno recuperiamo la vita Peccato Veramente peccato Per i combattimenti Per il gameplay Poteva essere fatto Veramente molto meglio È tanto Risulta anche confusionario In alcuni punti Ma proprio per la Lennosità che c'è Perché non mi ha parato Ah non lo è vero Perché dopo un po' Che sono tutta la parata Appunto lo scudo viene distrutto Si deve rigenerare Con lo spada e scudo Vedete Quando non c'è più la bolla Prendete danni Ma Non posso No Cioè se li distruggo prima Ah Posso distruggerli Il problema è che poi Ah era easy allora Appunto qua Non dovevo Eh però devo colpire anche lui Eh però devo colpirlo O posso fare l'esecuzione Forse No Eh cazzo Uno ok Due di questi potrebbero essere Un problema Non è anche bello esteticamente Guardate il nemico Veramente figo Sul discorso del design Nulla da dire Però sul gameplay Si parecchie cose da ridire Non dico che volevo un fiuri Però insomma Quanto meno Un po' più di fluidità E di precisione Non lo colpisce con l'ultimo colpo Non so se ci avete fatto caso Quindi quei nemici là Creano delle statue Che appunto se non distruggiamo Finiamo in un campo Di match Un casino Finiamo Perché di gestire Tutti quei nemici là Poi è quasi infattibile Secondo me Bella queste statue di cobra Oh cazzo Eh Vabbè qua è un problema però Problema che se Mi prende con la combo Dopo non posso più uscire Non posso più parare Ora si Mamma che casino ragazzi Che casino Porca puttana Eh sta recuperando la vita Che casino Veramente No vabbè ma No è un macello È un macello Ecco non ho recuperato la vita È troppo Lo trovo ripeto Confusionario All'inizio sembrava un bel gameplay Invece andando a Nella lunga si vedono Le lacune Le mancanze Secondo me Degli sviluppatori Non c'ho voglia Di rifarmi tutto Però Cazzo Ripeto è un gran peccato È un gran peccato Sì vabbè Non è che son pirla Il mucce te lo leggo È tutto Però È proprio un discorso di Di legnosità a volte Che mi fa perdere I combattimenti Quanto siamo di video? 18 minuti Presto Perché lo sto giocando Anche il normale È la difficoltà Per essere normale È abbastanza tosto Beh immaginavo Ma che palle Ma posso anche recuperare La mia mossa Qua vedete Con R Con la X No scusate Ecco il quadrato Posso recuperare La La mossa speciale Devo sfruttare Questo discorso qua Devo sfruttarli I muri Vedete Ma perché non mi sale? Questo lo devo sfruttare A parte che è fighissimo Da usare Eh No Ma perché? Ma puttana Di quella puttana Di merda Ho schivato O non m'ha schivato Non m'ha schivato Cazzo Ve lo giuro Ho schiacciata la X A me morire Per colpa Del gameplay Del gioco Che non è fatto bene È più forte di me A me mi fa girare i coglioni Devo morire Perché sbaglio io Non perché il gameplay Non è Fatto come dovrebbe essere fatto Secondo me Cioè Figa legnoso Veramente come la merda Figa Anzi Penso che uno stronzo Sia più Più fluido A me Adesso sto facendo Un po' di ironia Porca puttana Oh Eh Lì non so perché Ha funzionato Come doveva funzionare Vediamo No Ma che cazzo No Ok Voglio capire Quanti danni Fa sta cosa Ma a me Non sembra Che faccia Tanti danni È un peccato Ripeto Io mi incazzo Perché è un peccato Non per quello Non per altro Perché è un peccato Eh ma avete rotti i coglioni Cioè guardate Quando finite di mezzo Non potete far più un cazzo Ma che puttanata è Ma che puttanata è Ma che puttanata è Che quando vengo colpito Non posso schivare Ma che stronzata Dai Non mi voglio incazzare Però è più forte di me Poi è una blind run Quindi sentite Tutte le robe A pelle Proprio senza pedi sulla lingua Come cazzo l'hanno fatto Dai Porca puttana Veramente Mi girano i coglioni Perché poteva essere Veramente un capolavoro Sto gioco Però assolutamente Non lo è Perché C'è chi dice Che è un capolavoro Ma non sono assolutamente D'accordo C'è troppi problemi Per essere definito Capolavoro Sto gioco Troppi E il gameplay È importante È una delle cose Più importanti Di un gioco Questa l'avrei dovuto Tagliare per dopo Qua ho sbagliato io La mossa finale L'avrei dovuta Tagliare per dopo Per gli stronzi Che arrivano adesso E devo far così Problema che prima Mi hanno incastrato E non ho avuto più Possibilità di fare un cazzo Perché non mi ha fatto L'esecuzione Che cazzo Oh che palle Vedete Non potete più muovere Vi è assurdo È assurdo Cioè a volte Si finisce in commo Non si può più fare un cazzo Eh vabbè Ancora Sì Ah ma queste Vero esplodono Basta schivare Quando si avvicinano Vedete Quando si avvicinano A voi Schivate E esplodono Da soli Ok Comunque sta mossa qua È fighissima È quello che mi fa incazzare Fighissimo Mosse belle E poi il gameplay Boh Si sono persi Devo andare qua Allora Non mi ricordo Com'è Ah ok 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 Ah forse ho capito Qua Sono raggi e gol Nel dipinto qua Presumo di qua Lo so che sono critico Però il gameplay Ragazzi Il gameplay Deve essere fatto bene Cioè Come della Sguardian Cazzo Della Sguardian Non ho neanche giocato Cioè io ho smesso di giocarlo Per il gameplay Che aveva Cioè è veramente Legnoso Una roba Allucinante Andiamo a andare Un altro combattimento Un altro combattimento Sento che non sarà Per niente facile Vedete perché ci sono questi E quindi penso che qui ci sia un combattimento a breve Beh Cosa Vuoi colpirlo? Eh Il problema è che se creano troppi nemici Sono fottuto Non mira Ma poi non mira giusto Cioè Però qua non va bene L'arco Non va bene Qua ci vuole la spada Ma ho parato Dai Vabbè Ma No Ma che palle Veramente Non mi ha fatto l'esecuzione Cazzo Dai Ma vuoi fare l'esecuzione? No Me la vuole fare Ora No Potevo fare l'esecuzione col cerchio Porca puttana Recuperare la vita No Comunque no Il gameplay Ripeto Non è stressante Non è affatto piacevole Non è per un cazzo piacevole È stressante Logorante Quasi lo definirei No 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 È fatto Male Per me È fatto male Ripeto Ma Ripeto male Sì qua Non dovrei farli Cre Dovrei distruggerle Ovviamente Le statue Se magari me le colpisse Se magari me le colpisse Cioè non parlo a presentito dire Cioè è quello che penso Il gameplay qua veramente c'ha Qua è andata meglio perché appunto ho distrutto prima le due statue che creano i nemici Ok È tutta una questione di fluidità Ripeto Se fosse stato più fluido Andava benissimo Più reattivo Cazzo No Ok Ah Fanculo Provera che sento che ne usciranno altri di nemici Vedete non mira poi con l'arco Non mira un cazzo Che palle Cioè non mira proprio È allucinante Ancora Basta No Basta Non mi diverte il gameplay Cioè mi rompe il cazzo Cioè guardate che roba Dai No No È voluto fare la vita assolutamente Mamma che merda Veramente Che merda Cazzo Che merda Che merda No Ne copriamo un po' di vita Cioè veramente è stressante raga Cioè io non mi devo stressare quando gioco Stressarmi il giusto Non così Ok Basta perché Grazie Grazie All'inizio era divertente Poi quando Sono iniziati a arrivare questi nuovi nemici Così veloci Così aggressivi Il gameplay non si sposa bene Ripeto Sono troppo veloci rispetto a noi E così via Secondo me Vediamo un attimo Ripetevo Sfruttare più questi qua Comunque Però la ricerca di segreti Non c'è nulla A me non mi sembra che c'era qualcosa Ok ho capito Adesso non so quanto manca E' la fine del gioco E qua Devo andare indietro Ok Questa potrei usarla come Immagine di copertina Per il video Magari non con la nebbia Ecco Ok Ok nuovo Novo potere ragazzi Che dovrebbe essere l'ultimo ghiaccio No Volevo vedere Colpisce i nemici Con stalattiti di ghiaccio letali Attacca a ripetizione I tuoi nemici Li congela Congela i nemici all'istante Interessante Però non possiamo ancora metterli Che palle Quando inizia a fare così Che nervoso Che non para Non fa un cazzo Non mi fa neanche l'esecuzione Si è buggato Quando la vita è rossa Cazzo Deve farmi l'esecuzione Perché non me la fa Oh avete visto Sapete che quando la vita del nemico È rossa Voi col cerchio Potete appunto Eseguire L'esecuzione E recuperare la vita Non me la faceva Puttana troia Io non lo so Comunque il gameplay Non è stato fatto Curato Non è stato curato Si vede Si vede cacerbo Si vede che No Ma non lo dico perché perdo Perché perdo Per colpa del gameplay Lo dico Cazzo Allucinante Veramente Allucinante Occasione sprecata Porca la puttana Adesso abbiamo tre elementi E in teoria io ho la possibilità Di scegliere L'arco nel fuoco E la spada è nel ghiaccio Quindi fulmine Fuoco L'arco E ghiaccio Questa Non mi schiva Non mi sta schivando Ve lo giuro Ma che cazzo Vedete Che la vita è rossa E anche prima era rossa E non mi ha fatto fare l'esecuzione Quali non va bene Quali sono bug Cose che non devono succedere Assolutamente Nella maniera più assoluta Perché poi io per quelle cose lì Ci perdo E non mi sta bene Eh non mi sta bene assolutamente Se perdo perché sbaglio io Ho un conto Prima però che non mi usciva Non mi usciva Il cerchio per fare l'esecuzione Ancora no Che due coglioni Non posso usare questi Sì Ho sotterizzarli Ok Non deve recuperare la vita La tipa poi Forse qua la visuale La devo tenere un po' più vicina Non ho più lo scudo Dicevo io posso usare questi Per Sì Posso usarli Ok Ok Ma poi mi incazzo così tanto Perché il gameplay Effettivamente È figo Cioè raga Cos'è successo No Vabbè io non ho parole però Cioè ho fatto per Ho fatto per andare sopra Questo E mi ha Letteralmente buttato in acqua Non ha senso Cioè vedete poi Succedono queste cose E io non mi devo incazzare È sì che mi incazzo È anche come un animale Mi incazzo Cioè boh Veramente Io È meglio che non mi esprimo Già Il gameplay è quello che è Poi se muoio per colpa di bug di gioco No Non mi sta bene Non mi sta bene Assolutamente Non posso fare ancora la mossa Cazzo No Pessima idea Non mi cambiava l'arma Tanto per cambiare Oh Vita Mi sto nervosendo Pessima mostra Ok Ok posso andare avanti Per favore Grazie Il potere del ghiaccio Potenziato Secondo me sarà figo C'è la possibilità C'è la possibilità appunto Anche di congelare i nemici Quindi Qui Anche di congelare i nemici Perchè non mi allunga il braccio per dirmi che posso andare lì a sinistra? Ok Ok Allora Devo capire dove si va avanti Io presumo di lì Proviamo ad andare a destra E' infatti qua C'è un punto Che vado a spendere nel ghiaccio Vediamo Attacca a ripetizione i tuoi nemici E li congela non è male Congela i nemici all'istante A breve mi fermo ragazzi Quanto siamo 42 minuti Combattimento Puttana Oh schivava Oh l'ha congelato Questi qua sono veramente aggressivi Come nemici Però Oh il cerchio Ok Questi sono veramente aggressivi Poi si fermano ogni tanto a fare i pirla Ho visto Ma che non mi fa Non penso sia finita qua E infatti Le cagaminchia Eh se non mettevano queste non erano contenti Questi sono difficili da gestire Non mi ha schivato La X l'ho premuta ve lo giuro Vediamo la mossa col ghiaccio Ah Cazzo Cioè Sembrerebbe che la mossa con R2 speciale Li congeli all'istante E dopo ho potuto appunto distruggerli Cazzo Se lo fa sempre È fortissima Se lo fa sempre È veramente forte Ho un altro punto La storia in bella vista No Saliamo Anzi Qui c'è qualcosa No Bello qua Bellissimo Ok Devo risolvere questo Dopo mi fermo Ragazzi Risolviamo questo Un attimo O se ho capito Infatti Ma non capisco ok che bello sto murales ok ragazzi mi fermerei qui per oggi tanto dovrei aver salvato la prossima volta leggeremo questi e andremo avanti allora vedete che ha salvato che bella la host sottofondo con la canzone sentite è un peccato perché se solo il gameplay forse è stato più fluido e reattivo veramente eravamo di fronte a un ottimo gioco però non condivido chi ti posso dire che viene reputato capolavoro a parte che poi il capolavoro è soggettivo no non lo rep con un capolavoro comunque per ora solo per il fatto del gameplay cioè bene ragazzi nonostante le critiche spero che questo video di regi a nancy and epic vi sia piaciuto alla prossima